Il coronavirus si è diffuso tra alcune corsie dell'ospedale Santa Croce di Fano. Lo ha fatto nei reparti di cardiologia e di medicina, generando in quest'ultimo caso un focolaio di 12 positivi, 10 pazienti e 2 sanitari. Il protocollo stabilito, ci spiega il primario Gabriele Frausini, è molto rigido e prevede che tutte le persone che si presentano in pronto soccorso vengano sottoposte al tampone. Se il test dovesse risultare negativo ma il paziente presenta comunque alcuni sintomi o un quadro radiologico sospetto, viene trasferito nella cosiddetta zona grigia, dove si effettua il secondo tampone. L'ospedale, classificato come no covid, è un luogo sicuro, aggiunge, ma è inevitabile che i medici e gli infermieri continuino ad avere una vita sociale. Dobbiamo impegnarci per abbassare l'indice di contagio RT, prosegue il dottore, e abbiamo due doveri, la tutela sanitaria e quella socio-economica. Innanzitutto va detto in maniera chiara che il virus gira, il virus c'è in mezzo a noi, è molto diffuso. Dobbiamo continuare a curare i pazienti, continuare a non far diffondere la malattia e rendere possibile quella che è la vita quotidiana di tutte le famiglie, di tutti gli operatori, tutti gli operai, tutti i professionisti. Io credo di poter dire, senza troppa paura di essere smentito, che forse l'ospedale è uno dei posti più sicuri per queste cose. Anche perché siete completamente bardati durante le ore di lavoro? Purtroppo sì, noi siamo bardati è una parola piccola, usiamo tutti i dispositivi di protezione che non sono soltanto una mascherina, ho una doppia maschera in questo momento. Abbiamo dei camici idrorepellenti, abbiamo delle cuffie, abbiamo dei calzari, abbiamo i guanti, ma soprattutto dobbiamo tutelare la salute della gente attraverso tutte quelle norme normali di vita, che sono quelle del lavare le mani e cercare il distanziamento. Quando è possibile dobbiamo stare lontani tra di noi. Cosa succederà nelle prossime ore? Verranno ulteriormente isolati o spostati i pazienti positivi? Fin da subito abbiamo creato una specie di bolla, cioè una zona isolata del reparto, dove ci sono soltanto i positivi. Vi posso assicurare, ho appena finito la visita, che la maggior parte di questi pazienti non hanno sintomi riferibili al cobild, sono quasi tutti sfebrati. Quindi è una positività cosiddetta incidentale, altrimenti fosse stato in un altro ambiente non avrebbe saputo neanche di essere positivo. Fatta la bolla abbiamo riunito l'unità di crisi, l'ultima riunione di mezz'ora fa, nella quale abbiamo già stabilito il da fare e siamo in procinto di trasferire questi pazienti nelle strutture Covid di Pesaro. Frausini condivide il parziale lockdown messo in atto dalle istituzioni e si auspica che possa arrivare quanto prima il vaccino anti-Covid. Nel frattempo, ha detto, è necessario prestare attenzione. Quelle che sono le vere armi che hanno sconfitto tutte le grandi pandemie del mondo e dalla Spagnola in poi, è stato il distanziamento sociale. Questo non vuol dire che noi non abbiamo armi farmacologiche per affrontare questa malattia. Ormai la conosciamo bene. La prima ondata purtroppo ci ha fatto fare esperienza. Sappiamo come collocare i farmaci. Marche Nord è stata una delle prime strutture nelle Marche a procurarsi insieme per immune dai propri donatori e la stiamo usando con grande soddisfazione. Abbiamo inoltre i farmaci derivati dall'artrite reumatoide che sono fondamentali quando siamo di fronte a quelle tempeste che noi chiamiamo citochiniche in cui l'organismo mette in atto delle difese immunitarie abnormi e crea i veri grandi problemi che portano spesso questi pazienti in rianimazione. Ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare. L'arcobaleno deve essere il nostro simbolo e dobbiamo però tutti darci da fare nei propri ambiti per le cose che possiamo fare per venire fuori da questa brutta storia.